Non accadeva dal 2015. Ieri, per la prima volta dopo sette anni, l'euro è sceso sotto la parità con il franco svizzero. Alle 17.08 di mercoledì un euro era scambiato a 0,991 franchi svizzeri. L'indebolimento della moneta europea sul franco ha accelerato dall'inizio della guerra in Ucraina. Basti pensare che a marzo il cambio era 1,002 e a febbraio 1,06. Oggi il rapporto è tornato in parità, ma l'evento di ieri, meno di un franco per acquistare un euro, non si registrava dal gennaio 2015, dopo che la Banca Nazionale Svizzera aveva abbandonato il tasso minimo di cambio. Secondo gli economisti, l'istituto di emissione elvetico non punta più a un indebolimento del franco in vista dell'accelerazione dell'inflazione. Due settimane fa, la BNS ha alzato i tassi di interesse, operazione che ha poi prevedibilmente influito sul rapporto tra la moneta unica europea e il franco svizzero. Possono sembrare scarti marginali, eppure queste fluttuazioni hanno conseguenze tangibili nelle zone di confine tra Italia e Svizzera, come Como, Con un franco forte, gli stipendi dei frontalieri guadagnano potere d'acquisto. Per lo stesso principio, anche gli stipendi svizzeri guadagnano potere d'acquisto, quindi per i cittadini elvetici è ancora più conveniente acquistare beni e servizi in Italia. L'indebolimento dell'euro tendenzialmente favorisce i commercianti italiani nelle zone di confine, come Como.